Una mail e alcune intercettazioni telefoniche incastrerebbero standard and pulse. Ne è convinto il PM di Trani, Michele Ruggero, che all'udienza preliminare di ieri ha chiesto il revio giudizio di sei tra analisti e manager della società di rating accusati di manipolazione nel mercato. La società invece continua a ribadire la trasparenza del proprio operato e a rispingere le accuse. Come abbiamo detto in molte occasioni, afferma S&P in una nota, riteniamo che le accuse riportate siano prive di ogni fondamento e non supportate da alcuna prova. Continueremo a difendere estrenuamente le nostre azioni e la reputazione della società e delle nostre persone. La mail, ritenuta dall'accusa la prova regina del processo, riguarda i rating delle agenzie ritenuti inattendibili sia sul debito sovrano italiano sia sullo stato di salute del nostro sistema bancario. Ed è il 13 gennaio 2012, lo stesso giorno in cui standard nel PURS declassò l'Italia di due gradini, da A a BBB+, con outlook negativo sollevando aspre proteste nel mondo politico ed economico europeo. L'allora premier Mario Monti, ha ricordato in aula il PM Ruggero, parlò di un attacco all'euro e all'Europa. La missiva è agli atti del processo a carico dell'ex presidente mondiale di S&P, l'indiano Diven Sharma, del responsabile per l'Europa dell'agenzia Ian Lepalek e di altri tre analisti senior del debito sovrano che firmarono il report sull'Italia. A David Peirce, legale rappresentante di S&P Londra, viene contestata la responsabilità amministrativa della società. In due ore di discussione, il PM ha spiegato che il contenuto della mail sequestrata conferma l'inattendibilità dei giudizi di rating espressi da S&P sull'Italia, fa emergere i contrasti tra analisti al vertice della società di rating e la deliberata volontà di declassare l'Italia pur in assenza dei presupposti. E' aggiunto che già nell'agosto del 2011, tre mesi prima delle dimissioni del premier Berlusconi, in una mail interna analisti della società parlavano del probabile ricorso ad un governo tecnico, in questo modo alterando le successive valutazioni sul rating. Sembra chiaro che l'eventuale processo nel quale sono parti civili ad Usbef e una decina di risparmiatori si giocherà quasi tutto su questi elementi e sulla mail scritta in inglese il 13 gennaio 2012 dal responsabile per le banche di S&P Renato Panichi agli analisti Zang e Kramer. Scrive Panichi, ho il rapporto dell'Italia e vedo una frase proprio all'inizio dove ha menzionato la vulnerabilità crescente dell'Italia ai rischi di finanziamenti esterni, considerato l'elevato livello di presenza esterna nel settore finanziario e in quello del debito pubblico. E Elen, non mi hai detto questa frase ieri, non è giusto che tu dica che c'è un elevato livello di vulnerabilità ai rischi di finanziamenti esterni. Attualmente è proprio il contrario, uno dei punti di forza delle banche italiane è stato proprio il limitato ricorso a pelo e finanziamenti esterni o all'ingrosso. Per favore rimuove riferimento alle banche. A S&P viene contestato di aver emesso dal maggio 2011 a gennaio 2014 quattro report sull'Italia al fine di provocare una destabilizzazione dell'immagine, prestigio e affidamento creditizi dell'Italia sui mercati finanziari nazionali ed internazionali, un depreciamento dei titoli di Stato ed un debolimento dell'euro. Per capire se queste accuse sfoceranno in un processo bisognerà aspettare il 28 ottobre quando il gruppo Angela Schiralli concluderà anche l'udienza preliminare a carico di Fitch nella quale sono imputati per manipolazione del mercato David Michael Wilmot-Riley, capo rating sovrano della sede di Londra e il responsabile legale Trevor Pittman per la responsabilità della società. Sono accusati di aver rilanciato dal 10 al 18 gennaio 2012 in debiti annunci preventivi di imminente declassamento dell'Italia mai decretato ufficialmente da Fitch fino al 27 gennaio 2012. Se ci saranno il via giudizio, a Trani sarà celebrato il primo processo in Italia ai due colossi del rating mondiale.